Il cinema italiano è vivo, ma questo si sa da sempre. Ci sono tanti registi, insomma, anche giovani, cioè fino ai 65 anni. Tanti registi sotto i 65 anni, bravi. Poi ci sono Amelio, Bellocchio, insomma. Quindi il discorso è sempre quello. È un cinema vivo di registi e film, però privo di una cura, di una attenzione intorno. Ecco, e parlo, non so, della mancanza di belle trasmissioni sul cinema in televisione.